Monsignor Silvano Maria Tomasi, grazie, bentrovato, lei è trevigiano e scalabriniano e i suoi primi 40 anni li ha passati negli Stati Uniti, giusto? Giusto. Dove ha diretto il centro studi per le migrazioni di New York, ha seguito anche le comunità italiane, che sono soprattutto comunità di migranti, ha insegnato sociologia, che diversità dà quei migranti là e quelli di oggi? I migranti negli Stati Uniti venuti alla fine del secolo scorso, all'inizio del 1900, erano persone che avevano preso una decisione fondamentale di rimanere per sempre nel paese dove emigravano e il paese che li accoglieva aveva già l'abitudine di integrarli nel sistema politico e nel sistema economico del paese. Oggi arrivano masse di emigrati con una certa incertezza sul loro futuro, se rimangono, se vogliono tornare indietro, c'è difficoltà di inserimento e si parla molto di numeri di quanti devono essere accettati, ma poco di quello che avviene una volta che sono arrivati. Bisogna parlare di più e riflettere meglio se le società che accolgono, le società europee soprattutto, che accolgono le nuove masse di emigrati hanno dei criteri pratici per integrarli. Attenzione ai migranti fa parte del carisma degli scalabriniani, di cui lei è stato anche vicario generale di quest'ordine. Mi spieghi come nasce questa attenzione? Il vescovo scalabrini, beato ora, fatto da Giovanni Paolo II, era un comasco intraprendente, era vescovo di Piacenza. Una volta passando a Milano ha visto una massa di poveri contadini che stavano per emigrare, prendere il treno per andare a Genova e imbarcarsi o per il Brasile o per gli Stati Uniti e si è commosso davanti alla sofferenza e alla miseria di questa gente. Lo Stato non faceva niente e allora lui ha detto, da quel momento mi sono chiesto che posso fare io per questa povera gente. E da allora ha cominciato a fare conferenze, organizzare una congregazione di sacerdoti, una di suore, per seguire questi emigrati, aiutarli a integrarsi nel nuovo ambiente. Trovare il lavoro, studiare. Trovare il lavoro, prendere cura degli orfani, occuparsi delle persone malate. Imparare la lingua. E perché lei ha voluto diventare proprio sacerdote scalabriniano? Ma sa, quando si è ragazzi si pensa a qualche avventura. Io ho detto vado in America Latina a fare anch'io il missionario, perché conoscevo un giovane prete che era andato in America Latina, mi era simpatico, ho detto faccio anch'io così. Poi invece la provvidenza ha cambiato strada, invece di andare agli Stati Uniti sono arrivato a New York a 19 anni. Lì ho studiato, sono diventato prete, ho lavorato, ho insegnato un po' all'Università di New York e poi alla conferenza episcopale degli Stati Uniti per il resettlement, l'accettazione dei rifugiati, specialmente quelli dopo la guerra del Vietnam. E poi ho cominciato a lavorare con i latinoamericani, perché gli Stati Uniti ricevono quasi un milione di immigrati ogni anno, quindi è un tema caldo. D'altra parte il paese è stato costruito da immigrati, per cui è una mentalità diversa dall'Europa. Forse non immaginava di essere mandato in Eritrea, Etiopia e Djibouti come nunzio apostolico, è un altro mondo. Ma le sorprese della provvidenza sono sempre tante. Da New York sono stato chiamato a Roma prima a fare da segretario del Pontificio Consiglio per i Migranti. Ho lavorato qui un po' a livello internazionale dentro la chiesa e poi un giorno mi chiama il cardinale Sodano e dice come stai? Stai bene? E lei si è preoccupato subito. E io ho detto io sto bene per quanto so. Allora domani mi porti una lettera indirizzata al Santo Padre in cui accetti di andare a fare annunzio nel corno d'Africa. E' così che si fa in Vaticano? Cinque minuti mi ha sistemato. Io ho detto ma non è la mia vocazione, non sono un diplomatico. Ah dice vedrai che hai fatto una bella esperienza, l'Africa ti farà bene. L'ha fatto bene l'Africa? Sa, vivendo in Africa per alcuni anni si prende un po' il mal d'Africa. Ci si affeziona a queste popolazioni, si diventa veramente condizionati dalla necessità che hanno, specialmente se si iniziano progetti di sviluppo che legano con la gente locale. Ho avuto la buona fortuna di spendere tanta energia, direi, per aiutare queste popolazioni dell'Etiopia, Djibouti, soprattutto Eritrea. Ecco, Monsignor Tomasi, molti, moltissimi, sempre di più migranti che approdono le nostre coste vengono dall'Eritrea, dove c'è un regime durissimo evidentemente e gente spaventata, terrorizzata quella che arriva dall'Eritrea. Che cosa sta succedendo? Come è cambiata la situazione da quando c'era lei ad oggi e che rischi ci sono per le comunità cristiane che sono sempre più esigue, ma hanno una storia antichissima? La situazione politica in Eritrea è complicata. C'è lo stesso presidente che c'era ai miei tempi, vari anni fa, 15 anni fa ormai, è ancora lo stesso presidente che è un po' capo dell'esercito, capo del partito, capo del Parlamento, capo del Tribunale. Quindi c'è un sistema che controlla minuziosamente la vita della gente. Quando viaggiavo a dei piccoli villaggi dell'Eritrea, i giovani mi dicevano padre aiutami a emigrare, perché non avevano futuro nel lavoro e soprattutto la paura di essere reclutati nell'esercito senza un limite di permanenza. Potevano stare 5, 10 anni, 15 anni, non c'era… Ed è ancora così. Ed è ancora così. Allora davanti a questa situazione di poco rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali, i giovani non scoppiano. Allora cercano tutte le strade per emigrare e rischiano la vita, perché il Mediterraneo sta diventando il più grande cimitero a cielo aperto. Lei dal 2003 è stato inviato permanente della Santa Sede alle Nazioni Unite. Pensando anche alle emergenze che sono sotto gli occhi di cui stavamo parlando, qual è il ruolo di queste organizzazioni internazionali e il ruolo del Vaticano come incidenza all'interno di queste organizzazioni? Le Nazioni Unite sono una istituzione molto criticata per la sua inefficienza o perché ha duplicazioni di lavoro, di uffici… Lo dice lei, quindi io sono a posto. Ma allo stesso tempo se non ci fosse bisognerebbe inventarla, perché le Nazioni Unite sono tanto forti quanto gli Stati che le compongono, quanto gli Stati permettono che possano agire collettivamente. Allora direi che la presenza della Santa Sede nel contesto internazionale non è giustificata dal potere militare o dal potere economico della Santa Sede. Le alabarde delle guardie svizzere non sono forti abbastanza contro la bomba atomica, però è la voce morale che si fa sentire e che viene ascoltata di fatto, anche se non tutti chiaro seguono quello che la Santa Sede propone. Ma è una voce, la mia esperienza è che tutti vogliono sapere cosa la Santa Sede pensa su alcune questioni. Perché secondo lei? Soprattutto in questo momento Papa Francesco è diventato non tanto il simbolo del leader della Chiesa Cattolica, ma è il simbolo di tutto quello che si riferisce alla trascendenza. Se c'è qualcosa che pertiene alla religione, allo spirituale, è identificato con questo uomo. Alcuni ambasciatori musulmani, altri buddhisti mi hanno detto guarda il tuo Papa è l'unico leader credibile. Ed è questo che aiuta il ruolo dei rappresentanti pontifici chiaramente a dare una testimonianza e a dire una parola su questioni molto delicate e molto urgenti. Per esempio la tragedia che si consuma in Siria con tutti i morti, più di 400 mila morti in questi ultimi cinque anni di guerra. Su cui però non sembra che le organizzazioni internazionali abbiano le idee chiare di come gestirla? E' vero, perché abbiamo tre guerre che si sovrappongono. La competizione tra i grandi poteri Stati Uniti e Russia, il conflitto tra siiti e suniti, tra governo legittimo locale e l'opposizione legittima interna al Paese. Portare tutte queste forze attorno allo stesso tavolo diventa, per avere un po' di pace, mentre fine ai conflitti diventa un lavoro sovrumano, però è l'unica strada per trovare la pace di dialogare e di cercare di parlarsi. La cito, lei una volta ha detto che spesso le organizzazioni internazionali sono espressioni di alleanze tra forti orientate a preservare il potere di chi già ce l'ha. Parole sue. E' vero, io sono convinto che i poveri e i deboli non hanno sufficiente voce nel contesto internazionale dove si prendono le grandi decisioni. E' per questo che la Santa Sede dice non ci devono essere esclusi, dobbiamo adottare una politica di inclusione dove tutti possono dire una parola e che quindi, anche se in maniera differenziata, i diritti di ogni persona vengano rispettati. Ma se interessano poco i diritti delle minoranze, la loro parola sarà poco ascoltata? Ma è la battaglia continua che la Chiesa deve fare e che fa. E soprattutto il Santo Padre Francesco parla con immediatezza e senza ambiguità su questi temi, quando dice che dobbiamo costruire ponti e non dobbiamo costruire muri. L'ONU era nata per portare pace tra gli stati. Oggi dovrebbe soprattutto curarsi di portare la pace dentro gli stati? Oggi si sono sviluppati dei fenomeni nuovi, come dei gruppi non statali che diventano fonte di conflittualità. Abbiamo il cosiddetto Stato Islamico, abbiamo il Boko Haram in Nigeria, lo Stato Islamico tra Iraq e Siria. È una realtà nuova con cui ci stiamo confrontando, per cui è difficile combattere contro questa realtà. Però è una necessità che dobbiamo coordinarci, per questo per esempio nella recente enciclica Laudato si parla che tutto è connesso, perché di fatto non si può risolvere un problema da solo senza affrontare gli altri. Che ruolo potrebbe e dovrebbe anche avere l'ONU, richiamato anche da Papa Francesco nella sua ultima visita dello scorso autunno alle Nazioni Unite? Portare assieme i paesi a trovare soluzioni ai problemi che oggi non possono più essere risolti da un singolo paese. Per esempio la questione dell'emigrazione non può essere risolta da solo da un paese, il paese di partenza o il paese di transito o il paese di arrivo, ma ci vuole un coordinamento globale e trovare una governance nuova di questi fenomeni di movimento di popolazione. E questa è una sfida che i politici nostri alle volte non affrontano, perché guardano alla prossima elezione, mentre questi fenomeni sono di più lunga portata. La preoccupazione principale della santa sede in politica estera qual è? La questione della pace soprattutto, perché ci sono troppi focolai di violenza. Con la fine della Guerra Fredda, dove le due grandi potenze, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, cercavano un po' di tenere un bilancio nel mondo, sono sorti vari focolai di violenza e di potere diversi, per cui si parla con l'espressione di Papa Francesco di una terza guerra mondiale a pezzi. Ma questo blocca lo sviluppo, consuma energia e risorse finanziarie e umane che potrebbero essere messe al servizio del bene sociale delle popolazioni con scuole, con ospedali, con servizi sociali necessari. Quindi ci troviamo nella necessità di arrivare a mettere fine soprattutto alla violenza che sta sconvolgendo troppe regioni. Noi giustamente prendiamo a cuore la violenza drammaticamente quando succedono fatti di sangue nei nostri paesi, nei paesi europei. C'è una grande indifferenza nei confronti dei massacri che abitualmente quotidianamente si compiono in Medio Oriente e penso in particolare al massacro delle popolazioni cristiane in Siria e in Iraq. Il gruppo più perseguitato nel mondo, con più vittime in questo momento, sono i cristiani e soprattutto i cattolici, di vari riti ma membri della Chiesa Cattolica. Purtroppo c'è la difficoltà nel discorso pubblico europeo o internazionale di affrontare la questione religione. Quando si menziona qualcosa che tocca la religione dice questo lo mettiamo da parte e invece io dico e l'ho detto varie volte alle Nazioni Unite, a Ginevra, soprattutto nel consiglio dei diritti umani. Bisogna che la comunità internazionale difenda anche i diritti umani fondamentali delle persone che sono cristiane perché sono persone come tutte le altre. Senta padre, lei quest'anno è al meeting di Rimini ancora una volta come ospite e il tema del meeting è tu sei un bene per me. Allora le chiedo, tu sei un bene per me anche se pensano che sono un infedele, se pensano che merito la morte? Si tratta di un'attitudine di fondo che dobbiamo avere nel vedere e incontrare l'altro. L'altro è una persona umana e partiamo dal fatto che siamo tutti uguali in dignità come persone umane, tutti figli di Dio e allora se siamo tutti figli di Dio c'è la possibilità di un dialogo e tu con le tue qualità, con la tua esperienza, con la tradizione che porti, la cultura che hai, puoi arricchire me. Con certi proprio non si può dialogare però no? Con chi ti taglia la gola è difficile dialogare. E' vero, ci sono fondamentalisti intransigenti che fanno suscitare un dibattito pure nuovo nel contesto internazionale che è il dovere di proteggere quelli che non possono proteggersi da soli o che non hanno uno stato che li protegge. Quindi qui si apre un capitolo nuovo nella giurisdizione internazionale molto delicato ma molto importante. Le risposte sicuramente devono essere umanitarie e politiche, nel senso di diplomatiche, ma in qualche caso può essere anche giustificato l'uso della forza o mai? Bisogna fermare la mano dell'aggressore. Come fermiamo la mano dell'aggressore ingiusto? Con sanzioni, con isolamento politico, bloccando le armi che vanno, il commercio delle armi con questi gruppi. Però quando tutto questo è esaurito e non c'è altro mezzo, anche la forza è legittima per la protezione delle persone innocenti. Però l'uso della forza deve essere limitato, non creare più danno di quello che sarebbe se non si usasse la forza. Avere il consenso della comunità internazionale in modo che non diventi la scusa per uno stato di imporsi su un altro. Non come stato in Libia, quindi, ad esempio. Quando si destabilizza uno stato bisogna assumersi le responsabilità delle conseguenze. Esatto. Allora non si può dire che uno stato entra e destabilizza l'Iraq o la Libia o la Somalia e poi i milioni di rifugiati devono essere presi in considerazione dalla comunità internazionale. I benefici o gli interessi vanno ai stati che destabilizzano. Bisogna che quelli che destabilizzano facciano mea culpa, mea culpa e dicano che si prendano la responsabilità delle loro azioni. Altro che mettere il filo spinato a 20 miglia oppure allo stretto della manica, quindi. Giusto? Nella storia i muri non sono mai serviti. Senta padre, lei è stato per anni ha vissuto a contatto con le comunità musulmane. Perché il silenzio di tanti musulmani sugli ultimi feroci episodi di violenza? Perché c'è questa reticenza a condannare senza se e senza ma? C'è sempre un però che salta fuori anche nelle prese di distanza. C'è paura oppure è considerarsi comunque in un ambito comune? C'è una preoccupazione nel mondo islamico che chi è parte della UMA, della comunità islamica, per quanto sbagli rimane parte della comunità islamica. Per cui condannarlo esplicitamente diventa problematico. Questa è un'impressione che ho io. Però devo dire che negli ultimi due o tre anni si sta sviluppando una linea di pensiero nel mondo islamico con delle riunioni avvenute a Marrakesh in Marocco oppure a Erbil in Iraq che mettono la cittadinanza come criterio di appartenenza allo Stato e non l'appartenenza religiosa. Per cui i diritti e i doveri sono uguali per tutti quelli che sono membri dello Stato. Mentre ancora nella maggioranza dei paesi musulmani chi è musulmano ha la totalità dei diritti e chi non lo è ha una fetta di diritti concessi dallo Stato ma non tutti. Per cui questa discriminazione strutturale, organizzata direi, giustificata legalmente, è alla radice di questi scopi occasionali di violenza e soprattutto all'espulsione dei cristiani e degli altri gruppi minoritari. Senta padre, lei all'ONU ha vissuto scontri anche non teneri su temi sensibili che riguardavano la questione della vita per esempio e ha sostenuto con forza che c'erano pregiudizi ideologici e l'esistenza di interferenze vere e proprie all'interno della Chiesa, dei suoi principi educativi etc. Ho avuto occasione di presentare i rapporti della Santa Sede sulla questione dei diritti dei bambini, quello che riguarda la convenzione dei diritti del bambino, per cui la questione della pedofilia è emersa in maniera esplicita e violenta quasi direi. E anche sulla questione della tortura, sulla questione della libertà religiosa e così via. Quello che ho incontrato è che si vede alle volte da parte dei comitati che devono ricevere questi rapporti e quindi esprimere le loro opinioni una certa reazione negativa nei confronti della Chiesa, che però è frutto tante volte di mancanza di conoscenza di quello che sta avvenendo realmente nella comunità cattolica. Per cui per esempio per la pedofilia, quando ho spiegato le misure che sono state prese per preti laicizzati, 7-800 preti, via, nuove leggi introdotte nella Santa Sede, nuove direttive date alla Chiesa Universale, misure prese dalle conferenze episcopali, solo gli Stati Uniti hanno pagato quasi 3 miliardi di dollari alle vittime e ai cambiamenti fatti per educare in maniera diversa a rispetto dei bambini e alla loro protezione. Mettendo tutte queste cose assieme è emerso che la gente cambia opinione e poi io dico sempre mea culpa perché anche un solo caso di pedofilia è un caso di troppo nella Chiesa. Però poi guardate quello che è stato fatto per rimediare il problema e voi come Stato a Bici che cosa avete fatto? Il premio Carlo Magno però quest'anno con un riconoscimento internazionale importante è stato assegnato a Papa Francesco. Che significato ha? Un'investitura laica, una captatio benevolentie? Io penso che la popolarità del Papa Francesco ha portato la leadership dell'Unione Europea a dare questo premio come un simbolo di un appoggio alle idee fondamentali che il Papa esprime di uguaglianza, di inclusività, di giustizia sociale. Pietro sul mancato riconoscimento delle radici cristiane come origine dell'Europa, no? Forse no, ma direi che più che altro è di dire che anche il Papa poi sostiene l'unità europea e il passo ulteriore che deve essere fatto al di là dell'economia per poter veramente rafforzare e mantenere un'Europa unita perché non può essere unita solo in funzione dell'economia. E infatti si sta disunendo. Ma di un ideale. Si sta disunendo pezzo a pezzo, no? Il Brexit... Eh ma non solo, adesso ne arriveranno altri. Ma speriamo di no. Io sono in favore dell'Unione Europea perché l'esperienza mostra che questi anni hanno bloccato la violenza e la guerra. L'ultima cosa che le voglio chiedere, lei è stato moltissimi anni in America, siamo in periodo veramente stretto stretto di preelettorale negli Stati Uniti. Come sono visti i due contendenti dal mondo cattolico? Siete preoccupati? Sì. Quello che meraviglia è che un paese di più di 300 milioni di abitanti esprima due candidati di questo tipo. Che non ci sia una varietà e una possibilità di leadership più interessante direi. Per cui ci troviamo di fronte a questo fenomeno un po' populista e un po' dirompente. Con questa impetuosità e questa mancanza di sofisticatezza nell'analizzare le situazioni contemporanee. Sia da una parte che dall'altra, da un partito repubblicano, del partito democratico. E' un signore, lei si vede che ha imparato a fare il diplomatico, eh? No. Come naviga bene con le parole. Ho capito, ho capito bene. E' importante che non si può risolvere i problemi con una bomba. Bisogna negoziare, bisogna trovare la via della pace e la via della ragionevolezza e del dialogo. rispettando gli altri senza voler imporre immediatamente il proprio punto di vista. Quindi con un po' di pazienza io penso che si può trovare una strada per eliminare gran parte della violenza che viviamo oggi. E' ottimista quindi? Ma come cristiani... Bisogna. Bisogna essere ottimisti e io penso che se possiamo dare un contributo, e questo contributo viene accettato, cioè di dire veramente la fraternità cristiana, il messaggio del Vangelo è ancora fresco ed ha ancora l'incisività e la potenzialità di trasformare le nostre società. Grazie padre, grazie padre Tomasi. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei.